Scusi, ma lei è Lillo Ferri? Sì, ci conosciamo. Ci conosciamo. Lei ha lavorato tantissimi anni con mio padre. Ma che sei figlio di Lollo? Sì. E tu come ti chiami? Lello. Mazza che fantasia. E come sta Lollo? Papà. Non c'è stato detto niente. Se ne è scappato una ballerina di Lappadense. E non si è fatto più vivo? Solo una volta a casa, invece di una cartolina, ci è arrivato un perizoma. E quello è sempre stato fissato con i mignotti. Mi ricordo che ai tempi nostri stava in fissa con una certa Ines, un bal dracone, ce la siamo trombata in 2000. Mamma! Hai la mamma? E come sta? Come sta? È morta di parto. Che cazzo, mazza che sfiga. Comunque, a nome dell'antica amicizia che mi lega tuo padre, anche la povera mamma, qualsiasi cosa hai bisogno... Ecco, intanto, te, compra dei tuoi cheeseburger che ti vede maciato, eh. Ma come fai le lemosi? Ah, te vergogniamo, sono ricco sfondato, ma una volta ero uno sfigato come te, sai. Papà, creso, tu. Ma che sfigato? Di capito che io sono...